Indietro Allora, obbedite, sio Avanti, volete rischiare di bruciare vivi Andiamo, levatevi Di che gioco vi parlate? Semplicissimo Accetto scommesse sul posto in cui Flash apparirà la prossima volta Ma dai, tu non credi neanche che esista Flash? Ma certo che non ci credo, ma tu sì E come te ogni pezzacchiotto in divisa di ogni dipartimento Guadagnerò un sacco di soldi Ah, ci credo poco Questo è il terzo magazzino che bruciano in tre settimane Oggi succede di tutto in questa città La polizia non è buona niente Sì, è scandaloso, con le tasse che si pagano Non c'è più posto per gli onesti Mio marito lavorava lì una volta Poi l'hanno beccato a bere in una stanzetta e l'hanno cacciato via Succedeva tre secoli fa Scusate Ma cosa è lei? Un carro armato Sto solo lavorando, signore La vita non è già abbastanza dura Vuole anche un ricordo come questo Non sarà solo un ricordo Guardate, ci sono dei bambini lassù Allora, quando cominciamo con le scommesse, Marty? Andiamo, ragazzi Adesso vi porto via Grazie, Flash Almeno qualcuno sa come salvare i bambini Via il pompiere dalla lista dei sospetti Perché non se ne va a casa? Non c'è più niente da vedere qui Che significa non l'ho visto? Com'è stato possibile? Era là insieme ai bambini? Io ho visto un pompiere con i bambini E poi non ha nessuna importanza Il bello di Flash è che è come un ufo Cosa? Buonasera Sono l'agente Murphy Posso aiutarla? No, se non conosce una lavanderia Che la villa roba Ha per meno di 30 dollari Ben, questo mi lascia solo un'altra possibilità Centrale di polizia Vorrei il laboratorio Barry Allen, per favore Non c'è Non c'è Lascia un messaggio? No, niente messaggio Chissà come stai vestito di rosso, signor Allen No, niente messaggio Non c'è Non c'è No, niente messaggio No, niente messaggio Stati Ah, è così Addit Signor Simonson, come commenta l'accusa di gestire il gioco d'azzardo e il racket delle estorsioni? Il verdetto ha commentato per me. Non colpevole. Io sono un normale uomo d'affari. Quindi non ha ordinato lei l'assassinio del testimone? Lo sa? Un giorno perderà la voce, signor Klein. E non sarà perché avrà preso freddo. Un normale uomo d'affari? E certo, io sono Michelle Pfeiffer. Lei sarebbe la pubblica acusa. Non ha creato nessuna difficoltà a quel delinquente. La prossima volta arrestatelo con uno straccio di prova che possa essere valido. Un controinterrogatorio avrebbe distrutto i suoi uomini. I miei uomini erano al loro terzo turno di guardia quando hanno arrestato Simonson. Allora non dovevano farlo. Non è un ladro di polli. Qui c'è droga, prostituzione. Sì, ha ragione. È perfino peggiore di suo padre. E lei lo tratta come un cittadino esemplare. Solo finché non avrò delle prove. E forse dovrebbe darmi la polizia. Tocca a te. I tuoi venti più altri cinquanti. Io ne vado. Una gomma sotto il tavolo. Ma da dove viene questa gentaglia? Coraggio! Sparate al procuratore nella vostra bischia. Voglio i diritti cinematografici su questa storia. Non dovresti essere qui, sai. Le tue società di copertura hanno comprato dei preziosi terreni edificabili. Perché non mi hai informato? Oh, se pensi che abbia infranto la legge, parla con il mio avvocato. Ci ho già parlato questa mattina in tribunale. Ho visto. Ti ha fatto a pezzi. Quest'anno ci sono le elezioni e io ho voglia di vincere. Va bene, ti darò in pasto qualcuno perché tu faccia bella figura sui giornali. Non posso perderti, lo sai. Già, a proposito. Dovremmo parlare anche di questo. Desidero un piccolo ritocco. Il nostro accordo attuale è inaccettabile. Bla bla bla, il nostro accordo va bene così. Mi sono preso cura di te, fin dall'università. Va a casa, ragazzo. Un procuratore qui disturba gli affari. D'accordo. Ho conosciuto Judith, un'amica di Sabrina. È giovane, ricca, libera, perfetta per te. Perfetta come l'ultima? Quella con le fobie? Ah, fobie, temeva la velocità. Ah, temeva anche i cappelli e le pellicce e soffriva anche di agorafobia. No, e poi ho troppo lavoro per pensare alle donne. Ma tu non ci devi mica pensare, lascia semplicemente che... Bene, basta. Trovato niente al magazzino bruciato? Un frammento di una bomba incendiaria, asiatica sembra. Questo restringe le ricerche a qualche centinaio di fabbriche fra Seul e Hong Kong. In che posso servirvi? La signora Grosso? Sì. Molto piacere. Barry Allen. Senta, vorrei farle delle domande sull'incendio di questa notte al porto. E io cerco qualcosa da regalare alla donna dei miei sogni. Romantico. Mi ricordo di un tempo in cui erano tutti romantici in questa città. Allora, l'incendio di stanotte? I bambini si sono salvati per miracolo. Non avevano nessun altro posto che quello per giocare. Eppure noi abbiamo dato un contributo per la sistemazione di Riverside Park. Guarda un po' qui, Barry. Sembra venere uscita dal mare. Secondo la sua testimonianza, lei avrebbe assistito ad altri tre incendi. Assistito? Per poco non ci sono finite in mezzo, ma sono preoccupata solo per la fabbrica di scatole. Quella in Angel Street? Sì. Mio marito mi aveva regalato delle azioni di quella fabbrica. Speravo che si rivalutassero e rendessero abbastanza denaro per poter mantenere i miei nipoti a scuola. Ma adesso, con tutti questi incendi... Guarda questo com'è buffo. Julio. Mi descriva la dinamica dell'incendio. Dunque, all'inizio c'è stato un grande scoppio e subito dopo si sono sviluppati tanti focherelli, contemporaneamente. Questo è sufficiente? Sì, spiega molte cose. Senti, l'accetti questo appuntamento? Devo chiamare Sabrina. Julio, devo ordinare il materiale e spedirlo tutto al laboratorio. Non fino a domani. Judy, eh? Che cosa le hai detto di me? Che sei alto 1,80 con un fisico da indossatore. Cosa credevi? Fidati di me, amico. È provato, l'amore fa un bel effetto. Anche le esalazioni delle sostanze chimiche fanno un bel effetto. La mia faccia è preziosa. Primo appuntamento, vero? Sì, primo. E per di più, alla cieca. Questo lo offro io, grazie. Ha detto vodka? Per due? Sì, d'accordo. Baby, perché fai fotografie quando puoi avere un uomo vero? Sono molto lusingata, ma aspetto il mio fidanzato da molto. Bambola, porta il mio whisky preferito a me e alla mia nuova splendida ragazza qui accanto. Io ho molto da fare, ma quella signora in rosso sarà felice di accettare di bere qualcosa con un tipo così. Ma tesoro, tu hai vinto alla lotteria questa sera. Andiamo, rilassati. E lascia che ti conduca oltre la soglia del più puro impazzimento sessuale. È inciampato sulla soglia. Senta, li tratta così al primo appuntamento. Mi scusi, se per caso vuole sporgere denuncia, io sono un agente. Sono un agente di polizia. Grazie. E pensare che si dice che non ci siete mai quando c'è bisogno di voi. Mi scusi. Aspetti un momento. Mi scusi, scusi. Aspetti. Cosa spingi? Non mi dire che te ne stai già andando. Ciao, Barry. Ciao. È il vestito della domenica. Questa è Judith, è la mia migliore amica. Lui è la persona di cui ti ho parlato. Salve. Lei è spesso vicino alla morte. Lo percepisco dalla sua aura. La mia aura? Judith, ci vuoi scusare solo per un momento, per favore? Scusate. Torniamo subito, eh? Julio, sei un uomo morto. Che diavolo sta facendo qui? Chi avrebbe mai detto che lei fosse una tale acrobata? Via ai piedi dalla scrivania e via quell'aria confidenziale. Come va il lavoro, signora Lockhart? Sono tre mesi che stiamo aspettando. E sono tre mesi che io lavoro, signor Castiglio. Flash non è sull'elenco. Ho raccolto e ordinato tutte le prove che ho potuto. Videotape, testimonianze di gente che l'ha visto, quante volte è apparso. Ho fatto di tutto per cercare di capire quale fosse la sua identità. Non ho sprecato i suoi soldi. Nessun cittadino può sostituirsi alla legge, signora Lockhart. È per questo che noi dobbiamo assolutamente rintracciarlo al più presto. E io sono qui per collaborare. Anche se ho l'impressione che lei tenga più la sua campagna elettorale che al rispetto della legge. Non prevedo di fare il procuratore per sempre. Allora, a che punto è? Ho dovuto controllare migliaia di possibilità. Adesso ne ho una sola. Niente nomi ancora. Ho bisogno di prove più sicure. Venerdì al massimo avrò smascherato quell'uomo. Bene, a venerdì. A noi due, Barry, sei in trappola. E va bene, non era esattamente il tuo tipo. Esattamente. Sabrina pensava che lo fosse. Se sono tutte così le amiche di Sabrina, disdico da adesso tutti gli appuntamenti. Sabrina dice che tu... Ciao, Julio. Ciao, Barry. Come va la vita? Sapete, raccolgo scommesse per la prossima apparizione di Flash. Cinque dollari. Ah, non dico mai le scommesse. Perché lo scommetti? Mettici i cinque dollari che mi devi. I cinque, ma dai. China Town. China Town è tua. E va bene, mettiamoci d'accordo. E se prendi Central Park sono altri cinque dollari. È una buona zona, è probabile che appaia lì. Lo senti, te lo dice anche lui. Bene, la prendo. Scusate, ragazzi. Ci sono novità sull'incendio del magazzino? Sì, ci avevi azzeccato, Barry. Il cugino di Jamo che lavora con i pompieri ha detto che è stato un incendio doloso. Incendio doloso, grazie. Jamo, eh? Sì, non te lo ricordi. Ehi, Barry, se cambi idea, il tuo bookmaker è sempre qui. Bene, lo terrò presente. Dall'FBI. Avevi ragione. La bomba incendiaria è stata fabbricata a Saigon. Abbiamo un terrorista vietnamita che ci brucia i magazzini. Non necessariamente. Anche i Fire Lords, un gruppo di guastatori americani, usavano quella bomba. Comunque si tratta di professionisti, lo dice anche il rapporto. Chi paga un mucchio di soldi per dei professionisti addestrati dallo zio Sam? Qualcuno che da questi incendi ci guadagna. Osservate attentamente, signori. In questa mano ho il Johnny. Se riuscite a scoprire dove lo metto, vincete. Carta vince, carta perde. Carta vince, carta perde. Puntate, signori, dov'è? Forse è qui. Che peccato, la prossima volta andrà meglio. Tenti ancora la fortuna. Carta vince, carta perde. Puntate, signori. Ma che sto facendo? Così sarebbe troppo semplice. Bisogna puntare una carta alla volta. Ehi! Senti, non piscatole. Chiudi il becco, imbroglione. C'è ancora chi casca in questo vecchio trucco, eh? Si può sapere che vuoi da me? Questa è libera iniziativa privata, amico. Lascia stare, piuttosto. So che eri amico di mio fratello e mio padre. Sono Allen. Barry Allen. Il minore di Henry? Sì. Già. Mi è dispiaciuto tanto, DJ. Era... Era un bravo ragazzo. Senti, io ho bisogno di un piccolo aiuto da te. Voglio avere informazioni riguardo agli incendi al mondo. Servirà un rimborso spese per... Non ti metto dentro per truffa. Va bene, va bene, va bene. Toglimi una curiosità. E come sei riuscito a mettere in mezzo la regina al posto del jolly? Me lo dici. Forse sono un po' magico anch'io. Telefonami alla centrale. Ma... I testimoni hanno affermato di aver visto una specie di scia rossa. Questa è la quarta... Star Lab. Star Lab. Ancora Star Lab. Forse c'è un legame con Flash. Sherry, puoi venire, per favore? Sherry, se chiama il dottor Carter Hall, dovresti dirgli che sono al laboratorio di ingegneria genetica. Povera me, devo cercare qualcosa per scrivere. Sherry... Sherry ha avuto... Sa, non si è sentita tanto bene. Sono una studentessa dell'università di New York. Molto piacere, signorina. Ether. Sì, certo. Dicevo, se chiama il dottor Carter. Mi dispiace, mi dispiace molto. Io cercavo solamente una penna. La dimentico sempre, la penna. Non importa. Segni le telefonate e basta. D'accordo. Lo farò. Cercherò di accontentarla perché io ho veramente bisogno di questo lavoro. Soprattutto dopo aver perso l'ultimo. E chi pensava che quelle sostanze fossero così volatili? Senta. Segni le telefonate e basta. Segnare e chiamate. E non tocchi niente. Non toccare niente. Per favore. Per favore. Ora vediamo se ho ragione. Studi di percinetica. programma segreto. Occorre scansione retinica per accedere al file. Sempre estremamente prudente, dottoressa McGee. Non avresti parlato così a mio padre. Senza perdere almeno una mano. Non usare più quel tono con me. Signor Spanier, ancora una volta devo ammettere che il suo lavoro è meraviglioso. Signore, non comprendo di quale meraviglia parli. Può un uomo bruciare la sua città senza bruciare anche il suo cuore? Lo so, ma ho grandi progetti per il lungo fiume. Alberghi, sale da gioco. Tutto legale. Vede, non posso comprare terreni vincolati dalla presenza di edifici storici da restaurare. Ma se bruciano, non si restaura niente. I nostri giorni sulla terra sono un'ombra, di cui non c'è niente che rimanga. Come dice lei, sì. Comunque, il suo prossimo obiettivo è la vecchia dogana di Blacker. Che razza di modo di guadagnarsi la vita. Ciao, Eo. Guarda cosa per te. Mi scusi, ma lei... Stavo controllando il cavo del suo televisore. Ci sono stati dei problemi di linea. Mi ha fatto passare la portiera. All'iguana, se non sbaglio. E così lei è un tecnico elettronico. Mi mantengo all'università, neurochirurgia. Accidenti. Credevo che non l'avrei più rivista, sa. Comunque non certo a casa mia. Io sono come l'erba cattiva, spunto dappertutto. E chi le ha insegnato quelle splendide mosse di autodifesa? I miei fratelli. Davvero? A fame? Conosco un ottimo ristorante qui dietro. Devo eseguire ancora molti controlli. Lavoro, lavoro, lavoro. Sì, capisco. Eolo, ma vuoi stare zitto? Oh, guarda. Lei è molto simpatica, sa. Per questo abbaia. Che cosa fa a sabato? Sono leggermente impegnata con tre uomini. Tre uomini? Sì, è impegnata. È meglio che risponda. Mi scusi, ma ho la macchina parcheggiata in doppia fila. Se volessi abbonarmi a un altro canale, potrei chiamare lei. Pronto? Un momento, un momento, un momento. Un momento, fammi capire. Come? Spanier. Sì, Spanier. Il nobile John Spanier. L'ho beccato questa sera. Dieci anni fa, quando l'ho visto l'ultima volta, il Polo Club andò a fuoco. Quello che ha ucciso il padre di Simonson? Proprio lui. E il figlio si è preso l'assicurazione. Senti, Spanier è una specie di maniaco della Bibbia. È entrato e è uscito di galera finché l'esercito non l'ha arvolato. Nei Fire Lords, vero? Sì. E tu come lo sai? Comunque, Spanier è un tipo strano. Un piede in chiesa e un piede giù all'inferno. Dove l'hai incontrato? Dalle parti della vecchia dogana di Blacker. Grazie tante. Grazie a tutti. Prenda il suo taccuino, signor procuratore distrettuale. Lo chiedi a me chi è, hai una bella faccia tosta. Sei tu il cane da guardia, Eolo, no? Dobbiamo parlare. Mi scusi, signor procuratore distrettuale, sono le tre di notte. Non perdiamoci in chiacchiere, Allen. So che il misterioso Flash è lei. Hai sentito, Eolo? Il procuratore deve aver sbagliato appartamento. Come ha detto, sono le tre di notte, quindi non faccia la commedia. Io non so, non so di che cosa stia parlando. Il fulmine, la morte di suo fratello, la dottoressa dello Star Lab, devo continuare? Insomma, Barry, lei ha bisogno di una copertura, di una copertura politica, che la guidi e che la diriga. Non ufficialmente, certo. Altrimenti sarà solo un giustiziere, un pericoloso giustiziere. Questa città ha bisogno di lei, e lei ha bisogno di un amico importante. Lasci che sia io quell'amico. Anche perché non le conviene affatto avere me come nemico. Io non so di che cosa parli, per cui non c'è niente da discutere. Nella sua breve carriera si è già fatto molti nemici pericolosi. Se la sua identità fosse divulgata... La mia identità! Tutti quelli a cui vuole bene correrebbero il rischio di subire delle vendette. I suoi familiari, i suoi amici, il suo cane. Qui, piccolo! Prendi! Quattro secondi allo scoppio. Tre, due. Quattro secondi allo scoppio. Tre, due. A ventiquattro ore per farsi furbo. O lavora per me, o Joe Klein trasmetterà alla tv la cassetta in cui lei schizza via di qui come flash. Sa dove trovarmi. Maledizione! Una telecamera. Ma dove? Qui, piccolo! Minacciare quelli che mi sono cari Vorrei sbattergli la testa contro il muro a ipervelocità Adesso basta In questo modo non fai nessun danno a Castiglio Invece questa agitazione ti distrugge il metabolismo Il guaio è che quello che dice in parte è vero Ho molti nemici e il pericolo è reale Sì, ma un procuratore disonesto non può costituire un pericolo così grande Certo, quello è solo un pagliaccio Ma se metti in atto la minaccia Sono tutti in pericolo La mamma, papà, Eddie, Sean e anche tu Sareste dei possibili obiettivi voi tutti Non preoccuparti per me, so badare a me stessa, Barry Per ora farò come vuole lei, Castiglio Ma le prometto una cosa Minacci ancora la mia famiglia e anche lei si troverà in pericolo Vada immediatamente alla sala da gioco di Simonson E trovi il modo di sbancarla Il suo dominio sul lungo fiume è finito Lei rovinerà gli affari illeciti di un noto criminale E io l'avrò in pugno I nostri scopi si identificano come vede Ma non i metodi, Castiglio Ehi, senti Un'amica mi ha dato la sua carta d'accesso Però... Niente nome, d'accordo? Suo marito Non capirebbe mai Baby Cento Cento dollari di fish, per favore Mi basta Grazie Signori, fate il vostro gioco Sei un altro gigoloso faccendato E' pieno di soldi Hai un sistema anche tuo, vero? No Mi sento fortunato Basta solo intuire un momento E di conseguenza, muoversi nel modo più giusto E tu lo sai fare? A me, dali, a me, dali Su, vai Su Abbiamo vinto Sette, ha visto Due tavoli Sbancati tutti a due Conosci quel tizio? Mi sento molto fortunato oggi Lo sento anch'io Bene Speriamo che si senta soddisfatto della vincita Non riesco ad essere molto sportivo Quando perdo oltremisura Troppo, ha perso Senta, perché non conclude la serata finché è in vantaggio? Se la vedo ancora nella mia sala da gioco Avrà dei dispiaceri Io vado E se non la vedrò a casa mia Dispiacerà a tutti e due Sono un tipo noioso Grazie Molto gentile da parte tua Grazie mille C'è un vero tesoro Sì, proprio un tesoro Ah, non ho più tasche Grazie Una magnifica serata Che diavolo sta succedendo qui? Più di la baracca Andiamo, sbatteli fuori Più di 270.000 dollari Come diavolo Non vi avevo detto di chiudere Accidenti a te Ci mancavi solamente tu In un momento come questo Non sono più un tirapiedi ora Da oggi siamo soci alla pare Simonson Ti ha dato di volta il cervello? Quanto hai perduto questa sera? Cento, duecentomila dollari Se voglio posso farti perdere altrettanto ogni sera Pensi che ci metterebbe tanto Flash a farti fallire? Flash? E chi è? Quel pagliaccio con gli occhiali neri E chi può saperlo? Flash è così veloce Che non lo si vede mai Oh, sì, certo Credi davvero che me la beva? Chi poteva vincere ha un tavolo truccato Chi poteva buttare fuori dalla dogana Una bomba innescata Non preoccuparti Se ti comporterai bene Flash non verrà più a trovarti Flash prende ordini da me ora Proprio come te, Simonson Che noia a investigare sulle mogli tradite Ehi, carino quel pigiama Dove l'hai comprato? A Sing Sing Senti, per quale motivo Sei venuta a casa mia Per nasconderci una telecamera È solamente il mio lavoro Se devi darmi un incarico bene Altrimenti scusa ma ho da fare Io me ne infischio del tuo lavoro Me ne infischio Con quale diritto hai invaso la mia vita? Il diritto me l'hai dato tu Quando ti sei messo la maschera Io ho messo la maschera Solamente per proteggere le persone Che mi sono care Dalle conseguenze di ciò che faccio Sei un poliziotto Dovresti sapere che mascherarsi è illegale D'accordo, d'accordo Ma non ti è mai venuto in mente Che così avresti messo i miei poteri Nelle mani di quel bastardo del procuratore Naturalmente no Che te ne importa A te basta solo sapere Quanto ti pagano Non è così Che cosa c'è di tanto nobile Nell'andare in giro con un costume da Halloween Dovresti andare dallo psichiatra Io dormo la notte E tu dormi? Non ti dà qualche problema Avere servito quel bastardo? Dovrebbe darmene E' un farabutto Corrotto e senza scrupoli E grazie a te Mi ha messo con le spalle al muro E' stato mio cliente Ha pagato la parcella Ma che diavolo voglio? Che diavolo voglio? Saranno in pericolo La mia famiglia E i miei amici Se io non l'aiuto Nelle sue porcate E' la signora Kish Ha un fucile Oh mio Dio Avrebbe potuto uccidere il marito Ci sono novità sul pezzo di stoffa Che hanno trovato al magazzino? Un tessuto da quattro soldi Il nostro uomo non sarà mistero e eleganza quest'anno Posso esserle utile? No grazie Sono qui per vedere lui Julio va a controllare i risultati delle analisi Certo Complimenti per quello che ha combinato a Simonson Mi è piaciuto Dov'è finito il denaro? In una cospicua donazione al Riverside Park Fund Come ne è venuto in mente? Non ha detto niente sui soldi Comunque ho chiuso con lei Col cavolo che ha chiuso? Suo padre è vecchio E sua cognata non può controllare il bambino ogni minuto che passa Che altro c'è? Io voglio sapere chi finanzia la campagna del mio concorrente E tutte le eventuali magagne nel passato del caro Paul Van Dusen Van Dusen è il politico più onesto che questa città abbia mai visto Nessuno è onesto fin in fondo, Perry Ognuno di noi ha uno scheletro nell'armadio Giusto? Parola chiave A.S. Arthur Simonson Frequenti cattive compagnie, Castiglio È meglio non lasciare Conti in sospeso Quindi fa sparire Megan Lockhart E siccome certe informazioni valgono solo se sono esclusive Fa sparire anche la dottoressa McKinney A.S. A.S. Dottoressa McKinney È proibito stare qui dentro Mai sentito parlare di Germ Che fate nel mio laboratorio? Scappiamo, questi ci ammazzano A.S. Le spiego dopo Non ho niente da dirti Allora ascolta, lei mi ha salvato la vita Ho sorvegliato Castiglio e ho scoperto che... Simonson al filo doppio La vuoi smettere? Si può sapere cosa succede? Credo di averlo scoperto Al Senato sta per passare una legge che legalizza il gioco E rovinerebbe il casino clandestino di Simonson? Esatto Così ingaggia Spanier per mettere a fuoco il lungo fiume E riuscire a comprare poi i terreni a prezzi stracciati Una volta passata la legge Quell'uomo si ritroverà padrone di una zona ideale Per sale da gioco perfettamente legale E farà ancora più soldi di prima E questa è la miniera a cui punta Castiglio? Si Mi ha chiamato un informatore E' scoppiato un altro incendio Se prendo Spanier mando a monte il loro piano E incastro Simonson e Castiglio Lascia che ti aiuti Scordatelo E' sempre così carino Eh si, sempre Vada elettro Satana Ollina del Signore ti colpirà Come ti è venuto in mente di minacciare il senatore? Ti avevo detto di aspettare Io so quello che faccio O credi di potermi insegnare qualcosa? I tuoi metodi sono antiquanti Stai perdendo del tempo Ci vuole pazienza in certe cose Ah diavola la pazienza Hai pagato il senatore per anni Proporrà la legge dopo le prossime elezioni Castiglio E io dico che deve proporla adesso Non vuole bene fuori gioco Vuoi piantarla? Non ti permetterò di rovinare i miei piani Tu vuoi tutto vero? Ma non sei capace di fare niente Ti stai sbagliando Io ho già tutto Salvavi signore dal mio nemico Non sono ancora pronto per l'eternità Vuoi star zitto imbecille? Non! 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 Non si più non! Ascoltami, Spanier Chi ti ha ingaggiato? Chi ti ha ingaggiato? Arthur, si può solo Dillo anche alla polizia Oppure io tornerò E' stato lui, agente E' l'incendiario del lungo fiume Ma la mia fabbrica non l'ha neanche toccata Com'è riuscita a legarlo come un salame? L'ha legato Flash Sì, l'ho visto con i miei occhi E' stato Satana Il signore degli abissi in persona Accidenti Chi aveva scommesso su questo posto, te lo ricordi? Ancora Abbiamo un vincitore, ragazzi Il lavoro che ho fatto per lei è stato un crimine Conosci questa donna? Sa abbastanza di noi da mandarci in galera a vita La ragione per cui ho usato te E' che non c'è nessuno che ti rimpiangerà Quando non ci sarai più Brutto porco Se ti prendo di un pazzo Uccidila e buttala nel fiume Porco verme Un gruppo Un gruppo Un gruppo Attento, Flash! Credevo che lavorassi per Castiglio. Io non lavoro per nessuno. Tieni questa. Sei un uomo finito, Simonson. Sorveglielo. Io devo inseguire Castiglio. Rivelerà la tua identità? Lo so. Devo rischiare. Adesso hai chiuso, Castiglio. Lo dici tu, Barry. Sei un vecchio boy scout. Credi in tutte quelle semenze del bene e del male. Se io apro bocca, sei finito. Qualunque criminale potrà ricattarti minacciando i tuoi cari. E l'unico modo per fermarmi è uccidermi. E tu non lo farai. Castiglio era già stato condannato a morte. Aveva infronto le regole. Già, proprio così. Non poteva assolutamente tenere in pugno Simonson. E questo è il rischio del doppio gioco. Può finire troppo presto. Sono ancora arrabbiato con te per la tua intrusione, sai? Senza la mia intrusione non avresti mai preso Simonson e Castiglio. Beh, per non parlare di Spanier. Sì. Ma come posso essere sicuro che non mi tradirai appena sarai andata via? Tu mi hai salvato la vita, no? Pensi che non te ne sia grata? Sì, ma ne devo essere sicuro. Oh, Barry, devi fidarti di me dopo tutto quello che è successo. E poi, è difficile per me dirlo, ma mi hai dato una lezione che non dimenticherò mai davanti a quell'albergo. Non potrò più spiare la vita della gente prima di sapere che cosa devo fare della mia. Devo assumere la responsabilità delle mie azioni. Questa è l'unica copia del tuo video. Ho cancellato il file del computer. Ogni legame tra te e Flash è eliminato. Ma abbi cura ugualmente del tuo veloce fratellino rosso. Megan, stavo per chiederti di uscire. Cena o cinema, no? Ma possiamo folleggiare per la città per celebrare una maledetta cotta? Sì. Per ora basta così. Non sono il tipo. Non è mai... Non è mai troppo tardi per cambiare. No è mai troppo tardi per abbiamo... Grazie a tutti. Grazie a tutti.